Per la quindicesima giornata di andata del campionato nazionale direttanti Serie D, interessantissimo match qui al Mancini con la matricola terribile Monticelli che fuori casa ha già ammiettuto vittime illustri come San Benedettese, parte Borrelli. Vediamo Davide Borrelli il tocco verso Gucci, 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 Prova a innescare Borrelli, 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 la conclusione quindi Sivilla, Sivilla la parata del portiere. Che parte bene Borrelli prova direttamente la conclusione, si distende il fanno in contropiede, un ardini quindi a Borrelli, si smarca Sivilla, Borrelli però serve, Gucci, Gucci, c'è Gucci, vediamo Nico, e Niccolò che sbaglia il 2 a 0. Sivilla sulla traiettoria, attenzione Borrelli anticipato, quindi c'è Bartolini il tiro alla parata. Sivilla al limite, Sivilla, Sivilla, Sivilla al tiro, azione personale del bomber. Che poi regala la palla ad Alievic ed è ancora il Monticelli, attenzione c'è fuorigioco, c'è il fuorigioco però di Galli. Ancora il Monticelli con Petrucci che sulla destra ora a campo, il tiro di Petrucci, Ginestra si allunga e cornera. Attenzione c'è al limite il numero 8 del Monticelli Gesuè, la palla, attenzione, con il fanno che in qualche modo con Ginestra blocca il pallone, Rischio che ora gioca, si è spostato, si è fallo ma non c'è fallo, con Mattinata che mette il piede sopra e c'è il rosso, c'è il rosso, c'è il rosso giusto. Quindi Alievic mette nel mezzo il tiro, la palla resta lì, attenzione, Ginestra che con un balzo, il miracolo di Ginestra. Margarita mette nel mezzo, attenzione colpo di testa, c'è Ginestra, Gucci che è dappertutto, gran gara anche oggi di Gucci, avanza Gucci, vediamo Nico, Nicola Gucci, 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 prova la soluzione personale. Che mantiene il pallone, vediamo se la palla non è uscita, poi vediamo, dovrebbe essere uscita, attenzione, attenzione, c'è il rosso anche per Gucci, incredibile! Si continua a giocare, attenzione, finisce qui, finisce qui, l'Alma vince una gara di platino, bene così.